Coronavirus, sospesi collegamenti diretti in Sicilia, il ministro firma il decreto. Coronavirus, positiva una dipendente del call center Almaviva Palermo, polemiche sulle norme di sicurezza sul lavoro in sede. Proseguono a Palermo le attività di sanificazione concordate da protezione civile, RAP e polizia municipale legata alla prevenzione e al contrasto del contagio da Covid-19. Buonasera, prima edizione di Media News, oggi è lunedì 16 marzo. Il ministro dei trasporti Paola De Micheli ha adottato i provvedimenti richiesti da Nello Musumeci per contenere il contagio del coronavirus nell'isola, sospendendo i collegamenti diretti in Sicilia, garantendo partenze e arrivi solo per motivi di comprovata necessità. Firmato dal ministro dei trasporti, il decreto che limiterà gli spostamenti da e per la Sicilia, dopo la richiesta fatta da Nello Musumeci, presidente della regione siciliana, ridotti collegamenti aerei, nazionali e internazionali diretti in Sicilia, a eccezione fatta di due voli al giorno tra Roma e Palermo e Catania, blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello merci. Il ministro dei trasporti Paola De Micheli ha adottato i provvedimenti richiesti da Nello Musumeci per contenere il contagio del coronavirus nell'isola, sospendendo i collegamenti diretti in Sicilia, garantendo partenze e arrivi solo per motivi di comprovata necessità. Saranno possibili gli spostamenti per i passeggeri da Villa San Giovanni a Reggio Calabria a Messina e viceversa, ma solo per comprovate esigenze di lavoro o salute. Con Roma sarà mantenuto un solo treno intercity al giorno. Il governatore ha chiesto anche al ministro della Salute, Roberto Speranza, i necessari controlli sanitari alla partenza, sia per i passeggeri che per i conducenzi di mezzi di trasporto o merci. E sempre riguardo i collegamenti, l'assessore regionale alla mobilità, Marco Falcone, recepisce la richiesta del sindaco di Lampedusa per ridurre al minimo i collegamenti con l'isola, afferma quest'ultimo che si aspetta che il provvedimento venga attuato nelle prossime ore. Ho parlato con l'assessore regionale dei trasporti, Marco Falcone, al quale ho chiesto di limitare i collegamenti aerei e navali con Lampedusa, in modo da poter avere un maggiore controllo delle persone che arrivano sull'isola e rafforzare le misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus, garantendo comunque la possibilità di spostarsi solo a chi dimostra effettivi motivi di necessità. Lo dice il sindaco di Lampedusa, Linosa, Totò Martello. In merito alle tratte aeree e regime di continuità territoriale, attualmente operative, aggiunge Marcello, ho chiesto di cancellare voli da e per Catania e di lasciare solo un collegamento giornaliero in andata e ritorno con Palermo. Ho inoltre chiesto di cancellare una delle due tratte giornaliere navali con Porta Empedocle, mantenendo solo un in andata e un in ritorno. In questo modo, aggiunge Marcello, sarà possibile rafforzare il monitoraggio di chi arriva sull'isola e aumentare la sicurezza dal punto di vista sanitario sul nostro territorio, assicurando comunque l'arrivo di merci e geni alimentari. L'assessore Falcone ha mostrato piena disponibilità ad agire in questo senso, conclude Martello. Mi aspetto che il provvedimento diventi operativo già nelle prossime ore. Sui sacrifici, imposti per contenere il contagio e la limitazione degli spostamenti, ascoltiamo il presidente della regione, Nello Musumeci. In questi giorni la comunità siciliana sta dando una grande dimostrazione di responsabilità, di consapevolezza del proprio ruolo. Abbiamo capito che su questa vicenda non possiamo assolutamente scherzare o sottovalutare la portata e l'importanza. è la più insidiosa epidemia che il mondo moderno abbia conosciuto, almeno nell'ultimo secolo, subito dopo l'epidemia della Spagnola nel 1918, che fece decine di milioni di morti nel mondo, morì anche la mia nonna paterna. Oggi la modernità e il progresso ci consente di poter neutralizzare il virus, di poterlo contenere, ma in attesa che si trovi il vaccino, serve la nostra responsabilità. Il miglior vaccino in questo momento, forse l'unico disponibile, è proprio la nostra condotta, sapendo che ci sono delle regole che vanno rispettate, sapendo che le istituzioni sono tutte mobilitate, non c'è né maggioranza né opposizione in questo periodo, stiamo lavorando tutti per un solo partito, il partito dell'Italia e qui da noi il partito di chi vive in Sicilia. Ecco perché la notizia degli arrivi di tanti cittadini provenienti dal nord, non sappiamo quanti, ci ha necessariamente allertati. Abbiamo predisposto un servizio sullo stretto di Messina, alla Prodo, alla stazione ferroviaria della città, per verificare uno per uno i passeggeri in arrivo, per capire qual è la loro condizione di salute, per controllare la temperatura corporea, per far compilare un modulo a ciascuno e per dare le necessarie raccomandazioni. Chi viene da certe zone deve stare in quarantena, nel rispetto della propria salute e nel rispetto della salute intanto dei propri familiari con i quali si va a ricongiungere, ma anche nel rispetto della comunità in cui va a vivere. Basta un poco di sacrificio per poter contenere entro un tempo relativo questo morbo che dobbiamo necessariamente neutralizzare. E sempre di coronavirus parliamo dell'aggiornamento in Sicilia, 213 positivi e 8 guariti. Dall'inizio dei controlli, tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento, policlinici di Palermo e Catania, sono 2.653. Sono stati trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità, invece 213 campioni, 25 più di ieri. Risultano ricoverati 95 pazienti, 18 a Palermo, 42 a Catania, 10 a Messina, 2 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 4 ad Enna, 2 a Ragusa, 8 a Siracusa e 6 a Trapani, di cui 20 in terapia intensiva, mentre 108 sono in isolamento domiciliare. 8 sono i guariti, 3 a Palermo, 2 ad Agrigento, 1 a Enna, Messina e Ragusa e 2 i deceduti. E Nello Musumeci, Presidente della Regione, chiede l'intervento dell'esercito per coadjuvare le forze di polizia, il corpo forestale, nei controlli nei porti, aeroporti e nello stretto di Messina. Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana, durante un intervento televisivo in una rete nazionale, ha affermato che serve l'intervento dell'esercito per maggiori controlli agli arrivi nei porti, negli aeroporti e nello stretto di Messina. È chiaro che, insieme al nostro personale sanitario e volontari agli arrivi nei porti, negli aeroporti e nello stretto di Messina, ha spiegato il Governatore che serve avere anche uomini in divisa. Ieri mattino ho parlato con il Ministro dell'Interno, in quanto i volontari e la Croce Rossa e le guardie e il Corpo Forestale Regionale non possono assolutamente bastare. C'è sempre lo sciocco, il furbo, quello che si sente invulnerabile. E tutto questo mette a rischio il sacrificio di 5 milioni di persone stanno facendo in Sicilia con grande senso di responsabilità. A questo punto non ci rimane altra soluzione che chiedere l'impiego dei soldati e l'esercito. I prefetti sono già nella disponibilità dei soldati per l'operazione Strade Sicure. Si tratta solo di modificare gli assetti e di destinare una parte di questi uomini ai controlli nei punti di arrivo. Così facendo, determiniamo un deterrente che al tempo stesso consentiamo al personale sanitario di continuare negli accertamenti. Non si tratta di mettere i carri armati sulle strade, ha chiarito Musumeci, ma di coadiuvare le forze dell'ordine nello scoraggiare gli arrivi dal centro-nord, ma anche da altri paesi del Mediterraneo, visto che la Sicilia è una regione di frontiera. Ecco perché il controllo degli accessi assume un importante significato, proprio per questo chiesa al Ministro dei Trasporti di predisporre un'ordinanza che blocchi non solo tutti gli arrivi dai mezzi di trasporto nelle ore notturne, ma di impedire o limitare il movimento di passeggeri extra-regionali, consentendo soltanto il trasporto delle derrate alimentari. Ho il dovere di difendere la salute dei miei cittadini. La regione è istituito fin dall'inizio dell'emergenza un portale web dedicato siciliacoronavirus.it per la registrazione da parte di chi arriva nell'isola e un numero verde 845 87 87 gestito dalla Protezione Civile regionale per informazioni. Ci prepariamo al peggio, ha concluso il Presidente della regione, anche se fin d'ora la diffusione del virus in Sicilia appare abbastanza contenuta. coronavirus positiva una dipendente del call center Almaviva Palermo polemiche sulle norme di sicurezza sul lavoro in sede. Una dipendente del call center Almaviva di Palermo positiva al test sul coronavirus. Si tratta di un'operatrice addetta al servizio 1500 che fornisce ai cittadini informazioni sull'attuale emergenza sanitaria. La dipendente lo scorso 2 marzo ha partecipato alla formazione 350 dei quasi 3.000 operatori sono stati distaccati per il nuovo servizio e la formazione si è svolta in aula con 20 persone. Il suo ultimo giorno di lavoro è stato il 5 marzo. L'azienda ha attivato la procedura sanitaria. La dipendente si trova nel reparto malattie infettive dell'ospedale Cervello Nel frattempo si sta ricostruendo la rete dei contatti e l'operatrice a partire dai colleghi che erano in aula con lei. Almaviva ha eseguito una sanificazione straordinaria dei locali di via Filippo Cordova e di tutte le attrezzature. Dopo la conferma del caso di positività di una dipendente di Almaviva affermare che lo avevamo detto può sembrare fuori luogo ma la politica padronale si è rivelata ancora una volta ottuse e arrogante. Lo affermano in una nota congiunta Vincenzo Fumetta segretario provinciale di Rifondazione Comunista e Frank Ferlisi responsabile lavoro del partito. Gli impieghi non strettamente necessari dicono devono essere fermati o le imprese garantiscono la salute dei propri dipendenti o si sta a casa. I lavoratori dipendenti non sono carne da macello funzionali esclusivamente per l'accumulazione dei profitti. Gli operai di Fincantieri per esempio hanno lottato tutti insieme e sono stati bravi a costringere l'azienda da fermarsi hanno capito benissimo che quando si lotta tutti insieme si vince. Ma l'azienda tenta una furbata mette tutti in ferie e la lotta continuerà finché Fincantieri non piegherà la testa e ritirerà il provvedimento per mettere tutti in cassa integrazione. E si registra anche il primo caso di contagio all'Ascari è un uomo di 83 anni risultato positivo al covid-19 ed ora si trova ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo. Un anziano di Lascari è risultato positivo al coronavirus l'uomo è stato trasportato da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo non si conoscono ancora le sue condizioni cliniche a darne notizie il sindaco di Lascari Giuseppe Abbate in un video messaggio su Facebook Il nostro concittadino ricoverato ha 83 anni ed è arrivato dalla Germania da circa 15 giorni stiamo invitando tutti a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari abbiamo messo a disposizione un numero telefonico e invitiamo tutti quelli che hanno sintomi da coronavirus a comunicarlo al medico curante a rimanere a casa L'anziano due settimane fa era tornato in paese della Germania dove si era recato un paio di giorni per andare a trovare il figlio L'uomo è di Lascari e la famiglia risiede in paese Chiunque sia venuto in contatto con il paziente a risultato positivo al covid-19 conclude il sindaco deve immediatamente mettersi in auto isolamento e contattare il numero telefonico 0921 42 70 02 Premesso che quanti sono venuti a stretto contatto con il paziente a risultato positivo sono stati individuati e avvertiti per tempo e già messi in contatto con le autorità sanitarie invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma pur nella consapevolezza che occorre un'azione pronta e decisa da parte di tutti inoltre come già ribadito nei precedenti comunicati resta fermo che chiunque altro sia venuto in contatto anche occasionale con il suddetto e i suoi prossimi deve senza ulteriori indugi contattare il proprio medico e porsi in isolamento volontario si raccomanda a tutti di limitare i propri spostamenti a quelli solo necessari per ogni ulteriore evenienza e per qualsiasi dubbio potete rivolgervi al comando di polizia municipale o direttamente al sindaco coronavirus sempre nuovi medici e infermieri in Sicilia in centinaia hanno risposto all'arruolamento straordinario hanno già risposto più di 600 infermieri e oltre 50 medici all'arruolamento straordinario della regione per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Sicilia i bandi e le graduatorie restano comunque aperti pertanto è possibile prevedere un ulteriore incremento di nuovo personale sanitario immesso in servizio nelle aziende del sistema sanitario regionale è una prima significativa risposta dice il governatore Nello Musumeci che ci permette di rafforzare la linea dell'emergenza la regione si è mossa da subito per provare ad anticipare l'avanzata del virus attraverso una serie di importanti misure come le procedure di reclutamento di nuovo personale sanitario è un momento difficilissimo in cui tutti devono fare la propria parte ogni singolo cittadino è chiamato al dovere del rispetto delle regole anche a tutela dei tanti professionisti impegnati in corsia che come tutti a casa hanno famiglie e affetti l'assessorato alla salute guidato da Ruggero Razza ha immediatamente adottato una direttiva per avviare alcune significative azioni finalizzate a un celere reclutamento al personale medico e sanitario necessari a fronteggiare l'emergenza in particolare oltre al recepimento di tutte le disposizioni in deroga all'ordinaria modalità di contrattualizzazione sono state individuate due aziende capofila regionali per bandere avvisi di disponibilità e bandi di concorso per il personale medico con particolare riferimento ai medici specializzanti e ai giovani professionisti se ne sta occupando il Policlinico di Messina per gli infermieri e i professionisti di supporto sanitario OS e ausiliari l'ASP di Palermo le due aziende hanno subito avviato le procedure pubblicando i bandi e avvisi di disponibilità personale infermieristico già concluso personale medico e aperto OS che si concluderà domani e riprendiamo sempre con l'emergenza coronavirus i deputati del partito democratico all'assemblea regionale siciliana chiedono alla regione di varare un piano da 190 milioni per garantire liquidità alle imprese attraverso prestiti chirografari la ragione attiva un intervento immediato per garantire sostegno alle imprese siciliane e consentire di ammortizzare gli effetti di questa emergenza la nostra proposta prevede di utilizzare 190 milioni per l'erogazione di prestiti chirografari si tratta di prestiti non ipotecari per far fronte alla drammatica crisi di liquidità hanno una durata di 5-7 anni il tasso fisso è dell'1% i beneficiari iniziano a restituire le somme dopo 12 mesi dall'erogazione e la proposta dal gruppo parlamentare del PD all'Ars in vista della finanziaria ed emergenza la somma che abbiamo individuato proseguono arriverebbe dal fondo che la regione ha trasferito a medio credito centrale pari ad oltre 100 milioni e dagli 84 milioni in dotazione all'assessorato al bilancio per il sistema delle imprese siciliane i prestiti chirografari sarebbero garantiti all'80% da medio credito o dalla regione e al 20% dalla banca che concede il finanziamento in questo modo aggiungono i deputati PD le imprese potrebbero contare su una immediata liquidità indispensabile in considerazione degli effetti e la situazione che stiamo fronteggiando legata all'emergenza coronavirus pensiamo innanzitutto al comparto del turismo allargato che sarà particolarmente colpito da questa crisi ma anche ad artigiani commercianti al settore dei servizi questa misura può essere messa in campo alla regione e insieme con gli interventi decisi al governo nazionale che riguardano i mutui i prestiti la sospensione delle imposte e gli ammortizzatori in deroga per i lavoratori dipendenti darebbero un aiuto fondamentale alle nostre imprese chiediamo quindi al governo regionale di lavorare in questa direzione nel più breve tempo possibile concludono i deputati PD per poter dare risposte concrete ed efficaci ai tanti imprenditori e titolari di attività commerciali della Sicilia che rischierebbero altrimenti di non farcela e adesso vediamo quali sono le proposte del lancio a sostegno delle autonomie locali Leolo Corlando presidente Anci Sicilia i sindaci in prima linea per garantire il rispetto delle norme vigenti esprimiamo il nostro apprezzamento per gli operatori sanitari farmacisti e volontari che stanno svolgendo un grande lavoro e per i quali è fondamentale poter contare su adeguati presidi sanitari e sui necessari dispositivi di protezione individuale in questa difficile emergenza che sta affrontando il nostro paese anche i sindaci sono in prima linea nell'attività di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini invitandoli al rispetto delle restrizioni in atto vigenti lo dichiara Leolo Corlando presidente di Anci Sicilia al governo nazionale continua come Anci stiamo avanzando alcune proposte di fondamentale importanza per il sistema delle autonomie locali che ci auguriamo possano trovare attuazione nei prossimi provvedimenti normativi le proposte avanzate nel corso degli anni 2020 2021 e 2022 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020 2022 e 2021 2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 2021 e 2022 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria elevato a 6 dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 gli enti locali ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio scaturenti da una contrazione delle entrate correnti conseguenti all'adozione delle misure di contrasto alla diffusione dell'emergenza possono utilizzare le risorse destinate per gli investimenti che figurano nel risultato di amministrazione dell'ente alla data del 31 dicembre 2019 tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica l'obbligo di accontanamento è sospeso senza obbligo di recupero per gli anni 2020 2021 e 2022 agli enti locali che non avessero rispettato alla data del 31 dicembre 2020 i livelli minimi di copertura dei costi di gestione non si applica la sanzione pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018 Fit Cheese e Will Trasporti regionali intervengono sulla mancata distribuzione dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori delle aziende di igiene ambientale della Sicilia i sindacati esprimono grande apprezzamento e applauso ai lavoratori rimasti regolarmente in servizio ma l'attesa di mascherine e guanti non può essere eterna i lavoratori del settore di igiene ambientale sono rimasti regolarmente in servizio in tutta la Sicilia nonostante l'assenza dei dispositivi previsti per evitare il contagio a loro esprimiamo grande apprezzamento e applauso ma l'attesa di mascherine e guanti non può essere eterna adesso basta aziende e istituzioni consentano a chi deve tenere pulite le città di farlo senza rischi per la propria salute e per quella dei propri familiari non si corre il pericolo di far decidere tra l'interruzione del pubblico servizio e l'uncolumità personale e familiare così la Fitcis della Uiltrasporti Sicilia con i segretari Dionisio Giordano e Pietro Calega intervengono sul tema della sicurezza dei lavoratori che svolgono i servizi di raccolta rifiuti in tutta la Sicilia durante l'emergenza da Covid-19 in queste settimane di pandemia c'è stato un continuo susseguirsi di indicazioni raccomandazioni e soprattutto prescrizioni sulle misure che devono essere adottate alle aziende di igiene ambientale per consentire agli operatori ecologici di effettuare la pulizia della città riducendo al massimo il rischio dell'ora eventuale contagio l'impressione è che i vertici delle aziende aggiungono i due segretari abbiano con immediatezza pensato di inondare i lavoratori con fiumi di impegni formali e scritti quando la reale esigenza era e rimane quella di essere semmai inondati di disinfettanti per mezzi e luoghi di lavoro guanti e mascherine Giordano e Caleca aggiungono se sul fronte della sanificazione e disinfezione dei mezzi e dei luoghi di lavoro si registrano in queste ultime ore evidenti passi in avanti per ciò che attiene la distribuzione delle mascherine FFP2-3 e dei guanti la situazione sta diventando insostenibile il rischio di uno stop improvviso alle maestranze esasperate e preoccupate per la loro salute e dietro l'angolo oltretutto per loro appare impossibile anche il rispetto delle regole sul distanziamento sociale fra le persone le aziende del settore pubblico e private spiegano i sindacati ci hanno ripetutamente informato delle difficoltà a reperire tali dispositivi sul mercato rivolgiamo un appello alle istituzioni prefetture e protezione civile a fare presto e consentire un canale di approvvigionamento prioritario e proseguono a Palermo le attività di sanificazione concordate da protezione civile RAP e polizia municipale legata alla prevenzione e al contrasto del contagio da coronavirus da tre giorni la RAP ha avviato la sanificazione degli assi stradali principali nei quali vi è anche transito di pedoni si è partiti dalle strade del centro e sono partiti anche gli interventi nei diversi quartieri e nelle aree limitrofe circostanti gli ospedali si è intervenuti nella zona del Policlinico e del Civico all'Ozenna intorno a Villa Sofia in Viale Croce Rossa e Via Libertà a Brancaccio e Sperone e si sta intervenendo anche a Borgo Nuovo le attività di sanificazione vengono svolte con prodotti come la candeggina diluita che secondo le informazioni scientifiche attualmente disponibili ha efficacia contro il covid-19 contemporaneamente all'azione della RAP tre vetture e la protezione civile sempre supportate dalla Polizia Municipale sono in strada con altoparlanti per rivolgere inviti alla popolazione a rimanere a casa e spostarsi solo per necessità urgenti per lavoro e per motivi di salute invitando a consultare il sito comunale della protezione civile protezionecivile.palermo.it per tutte le informazioni il sindaco con un videomessaggio realizzato da casa ha voluto ringraziare tutti i lavoratori e gli agenti impegnati in queste attività ed ha sottolineato la necessità che da parte dei cittadini vi sia la massima collaborazione innanzitutto restando a casa tutelando la propria salute e contemporaneamente rendendo più facili gli interventi in strada c'è il piano per i mercati generali di Palermo verso la riapertura limitati gli accessi che dovranno essere controllati precauzioni e prescrizioni igienico-sanitarie all'interno delle strutture sono proseguiti i contatti fra gli uffici dell'amministrazione comunale la prefettura le forze dell'ordine concessionari che operano all'interno dei mercati iltico e del mercato ortoforticolo per individuare le modalità di attuazione dell'IPCM dell'11 marzo e dell'ordinanza regionale al fine di non danneggiare l'approvvigionamento alimentare della città è stato quindi predisposto un piano per la limitazione degli accessi che dovranno essere controllati e contingentati e per l'applicazione delle precanitarie all'interno delle strutture oggi i due mercati saranno chiusi le attività di vendita sono sospese per consentire la sanificazione e consentire di affrontare il piano di sicurezza utile ad agevolare il contingentamento degli accessi e a scongiurare assembramenti all'interno a partire da domani sarà poi la sorveglianza della polizia all'esterno e di guardie giurate all'interno a vigilare sul regolare svolgimento delle operazioni via Montepellegrino l'amministrazione comunale era intenzionata a bloccare le contrattazioni a tempo indeterminato ma i concessionari guidati da Alberto Argano presidente dell'associazione grossisti aderente a confcommercio sono riusciti a scongiurare la misura più estrema lo stesso Argano è stato impegnato a fondo per implementare il piano di sicurezza il sindaco spiega che tutti gli uffici comunali interessati hanno lavorato ininterrottamente per trovare il modo migliore per far continuare la vendita e allo stesso tempo assicurare condizioni di sicurezza per i lavoratori e di salubrità per gli alimenti l'assessore pian piano chiarisce che si è interloquito con tutte le istituzioni interessate e soprattutto con i concessionari che hanno ben compreso la delicatezza della situazione crediamo di aver trovato alla fine la soluzione che proveremo a verificare sul campo Salvatore Sardisco coordinatore nazionale del sindacato di polizia penitenziaria FSI in seguito alle sommosse nelle carceri di molte città italiane durante l'emergenza coronavirus ha evidenziato che l'equimaggiamento in dotazione al corpo di polizia penitenziaria è obsoleto e ha sollecitato le istituzioni a maggiori attenzioni ho dovuto far fronte a questa esigenza grazie anche alla benegazione del poliziotto penitenziario lo spirito di servizio lo spirito di sacrificio senza guardare le ore di servizio espletate in due tre quattro cinque giorni della settimana passata e fa fronte a quelle esigenze non ho con i mezzi che io personalmente ho visto i robocop fuori dagli istituti penitenziari e all'interno l'esercito dei franceschielli mi rivolgo a quelli che devono dare in dotazione i mezzi di antisommossa a un corpo di polizia militarmente organizzato bene adesso manca tutto perché vedere un collega che mette il casco e gli fuoriesce tutto quello che è deteriorato all'interno del casco mi sembra assurdo io mi sono arrivato da agente di custodia e sono arrivato negli istituti e ho visto gli scudi di antisommossa agente di custodia per cui hanno più di 30 anni anche lo sfollagente non è idoneo perché se lo andiamo a guardare non è idoneo per me per me dico per me poi ci saranno gli organi competenti a stabilire quella che è l'idoneità delle strutture dei mezzi e degli attrezzi da lavoro perché un maestro se non ha un pennello buono non sa disegnare e allora che cosa chiediamo oggi con margior forza e io da rappresentante chiediamo a quei governatori che io in 30 anni ho sentito dire che devono creare un colpo all'avanguardia bene da 30 anni si sono susseguiti diverse aree politiche e nessuno mai ha preso in considerazione che all'interno degli istituti operano dei uomini e delle donne ed è tutto grazie per essere stati con noi appuntamento alla seconda edizione arrivederci grazie a tutti